Le giganti rosse, stelle al termine della loro vita, espeldono strati di gas ionizzato che formano di gusci luminosi che si espandono con velocità elevate attraverso il mezzo interstellare. Questi oggetti sono noti con il nome di nebulose planetarie. Il modello qui riproduce una delle più popolari nebulose planetarie, la Twin Jet Nebula, anche nota come la Farfalla di Minkowski o la nebulosa Farfalla. Il modello si ispira alle immagini spettacolari ottenute con il telescopio Hubble nel corso degli ultimi anni. Posta ad una distanza di circa 2.100 anni luce dalla Terra nella costellazione di Ophiucho è stata scoperta da Rudolf Minkowski nel 1947. Come altre nebulose planetarie, la Twin Jet Nebula ha una morfologia che ricorda le ali di una farfalla. Questo lo si deve a due lobi di gas in rapida espansione dalla stella principale. La radiazione ultravioletta da parte della stella centrale eccita il materiale espulso, facendo si che esso appaia come brillanti e colorate ali di una farfalla. Ci si aspetta che il nostro Sole possa formare una nebulosa planetaria al termine del suo ciclo di vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.